Un pallido sorriso novellino ora può farlo vedere. L'infermeria resta affollatissima di uomini, tra l'altro decisamente importanti, ma quantomeno nell'ultima doppia sessione il tecnico di Montemarano ha potuto rivedere in campo Sofiane Bideoui. Il calciatore ha ricominciato a toccare la palla e fortunatamente ha mostrato anche un discreto stato di forma. Stesso di casi per Davide Gavazzi che ha sostenuto l'intera seduta con i compagni, segno che ormai, incrociamo le dita, il peggio è passato. Lavoro differenziato per Brian Cabezas e Federico Moretti, quest'ultimo protagonista di un simpatico siparietto proprio con Walter Novellino. L'allenatore infatti non gli ha risparmiato una sonora strigliata per averlo beccato a rientrare in panchina attraversando il campo in cui i suoi compagni si stavano allenando. Nessuno scrupolo da parte del tecnico nel fare la parte del sergente di ferro. E a dirla tutta il ruolo gli pareva disegnato addosso. Piglio deciso e durla vigorose hanno accompagnato l'intera sessione sotto la pioggia. Attenta alla fase difensiva, propositiva, quella offensiva. Il diktat del mister è stato per tutto il tempo, difendete la palla e spingetela in avanti. E poi attenzione per i passaggi e le marcature. Novellino vuole una squadra compatta, alta e tesa alla vittoria. Quella che necessariamente servirà sabato contro il Novara, quando davvero non si potrà più sbagliare. Il passo falso non è più concesso e non esisteranno alibi. Nemmeno l'assenza di uno come Gigi Castaldo o Radu, a senso in campo e in allenamento, ha fatto percepire di essere pronto e scattante e infaticabile nei suoi movimenti. Lezzerini nel match contro il Venezia ha fatto il suo. Ora è il momento di risalire la china, perché se la salita appare paurosamente ripida, la discesa rischia di essere decisamente più pericolosa.